Questi siamo io e Sergio Pellissier in terza categoria, due persone così diverse. Io inizio a giocare a 23 anni in terza categoria, mentre Sergio, dopo aver fatto più di 100 gol in Serie A, decide di creare la sua squadra sulle ceneri del Chievo, la Clivense. Siamo così diversi ma così simili, tutti e due accomunati da una grossissima passione, l'amore per il calcio, al di là della categoria. Sergio, come vi ho detto, adesso ha una squadra, la Clivense, e mi ha invitato per andare a fare un allenamento. Scoprite nelle storie.